Quando si parla di marketing, di beni di consumo in America, si fa sempre riferimento alle generazioni. Due generazioni fa c'erano i baby boomers che va dai 45 ai 65, poi ci sono la X generation che va dai 35 ai 45 e poi c'è questa qua, dei millennials che sono quelli che vanno dai 18 ai 35. Questi qua sono niente di meno che 70 milioni di persone. Questi millennials hanno un atteggiamento molto più avventuroso, esplorativo nei confronti dei prodotti di importazione. Oltretutto sul vino, loro consumano il vino molto di più delle generazioni precedenti. Il marketing che secondo noi è molto efficace è il marketing sul punto vendita. Perché dato questo atteggiamento esplorativo, diciamo così, di queste generazioni, soprattutto giovani, che sono quelli che sono il grande potenziale per il vino, quindi poterlo sentire sul punto vendita è veramente molto importante. Per esempio, tutti i ristoranti qua, dai più grandi ai più piccoli, vendono il vino a bicchiere anche. Questo consente, diciamo, di provare dei vini nuovi. Naturalmente le aziende che vogliono far provare i loro vini devono intervenire in questo senso. L'origine territoriale è una leva molto importante per i consumatori americani. Parlando di Toscana, naturalmente la Toscana è vista in maniera positivissima. Quindi è il poter dire che un vino è un vino toscano, effettivamente come tutto quello che è toscano, come direi gran parte di quello che è toscano qua negli Stati Uniti, questo viene visto in maniera molto positiva. Alla fine direi veramente che l'origine territoriale, toscana in particolare, deve essere di sprone, di incoraggiamento a chi vuole esportare, a chi dalla Toscana vuole esportare negli Stati Uniti. Negli ultimi anni, negli Stati Uniti, è venuto fuori questo fenomeno dei foodies. Noi stimiamo circa 40 milioni di persone. Questi foodies sono arrivati a questa grande passione, in molti casi quasi spontaneamente, anche perché vengono da una generazione, sono figli, soprattutto i giovani, quelli dei millennials, di una generazione, quella dei baby boomers, che non davano all'inizio, quando avevano 30 o 40 anni, grande importanza al cibo e al vino. Quindi invece loro lo danno moltissimo. Il problema è che negli Stati Uniti ci sono dei punti vendita specializzati in vini e liquori, dovuti alla legge americana e altri punti vendita che vendono invece in alcune parti del paese vini e liquori insieme al cibo. Allora, quando loro vanno nei punti vendita specializzati in vini e liquori, sono alla ricerca di trovare dei prodotti nuovi. Da qui la necessità di fare delle promozioni sul punto vendita. Un segno distintivo, un marchio distintivo dei vini toscani certamente può aiutare, perché la Toscana è un grande brand negli Stati Uniti, quindi certamente non è che può aiutare molto, può aiutare moltissimo. Cioè è chiaro che sarà difficile dargli la popolarità dello Swish di Nike, ma certamente può aiutare moltissimo. Del concept Toscani Teste, della sua immagine, visto così, mi sembra un qualche cosa di estremamente coraggioso, certamente molto differente da qualsiasi cosa che si è mai vista. sarebbe interessante vederlo adesso in una realtà di comunicazione più effettiva che non quella che ho visto io. Certo è qualche cosa di memorabile, certamente diverso da quello che si è mai visto per ricordare dei vini.